Abbiamo fatto già un primo incontro, ne faremo un'iniziativa pubblica il mese di luglio, ancora non l'abbiamo definita. Per grandi linee cosa prevede questo? Per grandi linee punteremo, almeno questa è l'intenzione, molto sulla ricettività del territorio, prediligendo gli investimenti nel settore turistico alberghiero rispetto alle abitazioni, che per la verità rispetto alle prescrizioni della provincia del 2007 sono addirittura ben boche, questo non è che ci preoccupa, ma quello su cui si ponderà certamente è questo, ad esempio più che alberghi per favorire anche l'economia locale e privata si dovrebbe puntare, si punterà certamente sulla individuazione per aree di un numero che è compatibile, di attività tipo resort, tipo bed and break e quant'altro. Ci sono delle aree particolari? No, in generale io lo farei in maniera diffusa perché ogni parte del territorio ha la sua peculiarità, sia il mare che i monti. E allora naturalmente fare questo intervento diffuso sul territorio significa anche dare la possibilità a tutti di poter scegliere e fruire di un'area che ritiene più essere congeniale ai propri desiderati. Quindi questo credo che sia una scelta di buon senso che non dovrebbe essere contestata perché molti cittadini potranno avere la possibilità di realizzarsi un intervento di questo tipo e implementare la propria economia che già per il momento non è che è considerevole. Grazie a tutti.